Due cose veloci. A me, ma credo come agli altri della vecchia guardia, fa estremamente piacere della giornata di oggi. L'idea era nata l'anno scorso grazie all'impegno di Guido e Anna e ci eravamo visti fondamentalmente in quattro gatti, abbastanza rattristati perché non si riusciva a capire il perché, che cosa ci fosse, cioè se uno preferisce vedersi via la spezia chiuso e altro, piuttosto che vedersi qua, c'era qualcosa che non funzionava. Da parte del vostro gruppo invece vedo veramente in tutto una risposta che è legata all'entusiasmo che da tempo io non vedevo più. Non so a che cosa sia dovuta, mi fa piacere, ma vedo anche la capacità, l'attenzione, anche un salame. Salamini belli caldi. Però, cioè, in quello io più che dirvi grazie, e andate avanti e pensate una cosa, voi non sarete, mi auguro, ma non lo dico solo io, dei semplici accompagnatori, perché vedo, grosso modo, che potrete anche essere in qualche modo il futuro di quello che può essere il grande discorso della FIE. Io ne sono convinto. Vedremo. Vi ringrazio e vi ringrazio. Grazie a voi. Ragazzi, ha detto che siamo il futuro. No, siamo anche presenti. È bella per forza, perché io sono sanderiano e vedo le cose andando davanti. Considerando la bravura e l'età, mi sa che ce l'avremo per capo per ancora tanti anni, no? Non lo so.